Scendono in campo, Pizza, Bettina, Milce e Squaro, Carlotta, Liuzzi, Max Matti e il capitano Marco Galli! Tutto esaurito, il morning show più ascoltato d'Italia. Buongiorno Italia, benvenuti a bordo! Radio 105, tutto esaurito! Dalle 7 alle 10, improvvisiamo tutto con voi. Bravo Marco! Alza il volume, vai! Grazie a tutti!